La crisi del polo industriale Eni di Gela si è manifestata prima della firma del protocollo d'intesa del 6 novembre del 2014. Le imprese dell'indotto a fase alterne hanno richiesto e ottenuto l'uso di molteplici ammortizzatori sociali e la stessa Eni per i suoi dipendenti ha avuto accesso alla cassa integrazione nel giugno del 2012. Il protocollo d'intesa è stata la risposta alla grande mobilitazione di tutte le categorie economiche della città e se ciò è avvenuto il motivo va ricercato nella totale assenza di alternativa occupazionale che ha colpito molte città del sud Italia, Gela inclusa. Lo dicono i segretari di CGL Cisle Will, Ignazio Giudice, Emanuele Gallo e Maurizio Castania. Il protocollo, se velocemente attuato, darebbe risposte concrete in termini occupazionali ai lavoratori ed in termini imprenditoriali ad una moltitudine di aziende in crisi da decenni. I sindacati esprimono forte preoccupazione per tutto ciò che in termini occupazionali, sociali ed economici sta attraversando, vivendo, travolgendo Gela, determinando uno stato di ansia, rabbia e scoraggiamento diffuso che potrebbe generare problemi di ordine pubblico. Da più parti si avverte la necessità e l'urgenza di costruire nell'immediato una vera e tangibile coesione sociale ed istituzionale per dare più forza alle rivendicazioni del mondo del lavoro, delle imprese e da tanti disoccupati in attesa del loro primo giorno di lavoro. È chiaro, rilanciano, che per il sindacato dei lavoratori l'obiettivo deve essere unico, salvaguardare la presenza della storia industriale attraverso l'avvio di bonifiche, nuovi insedimenti e la costruzione della bioraffineria. Non è secondaria la crisi della raffinazione mondiale, ma ciò non può tradursi in alibi per cullarsi, facendo finta che il protocollo, i progetti industriali, le risposte da dare ai lavoratori e alle imprese arrivino da soli. Una crisi senza precedenti impone iniziative senza precedenti, una fase straordinaria impone un'azione straordinaria. Ci vuole coesione. È però sotto gli occhi di tutti la preoccupazione per il presente, così come sotto gli occhi di tutti la chiusura di decine di piccole e medie aziende, nonché attività commerciali. A Gela non serve una mano dall'alto e neppure un finanziamento a pioggia. A Gela è utile fare ciò che si dice senza nessun timore e senza attendere altro tempo. Il tempo sta per diventare uno dei fattori sfavorevoli alla vita della città, che rischia ogni giorno di trasformarsi in dormitorio, né città industriale, né il sogno di città turistica. Il sindacato dei lavoratori, preso atto dello Stato di stallo nell'applicazione del protocollo d'intesa, accompagnato dall'inquietante silenzio delle istituzioni politiche, governative regionali e nazionali ed in assenza di risposte immediate che lo stesso rivendica da mesi attraverso lettere, appelli, incontri nelle sedi istituzionali, nelle prossime ore attiverà una serie di incontri al fine di realizzare nei prossimi giorni iniziative di mobilitazione in grado di svegliare chi può e deve decidere sulla vertenza a Gela. È ora di dire basta ed è ora di capire chi ha le responsabilità. E queste, chiudono giudice Gallo e Castania, non possono essere attribuite al sindacato dei lavoratori che con dedizione e pazienza, ad oggi, ha mantenuto l'ordine pubblico grazie alla maturità dei lavoratori e dei cittadini. Gela rivendica lavoro e non assistenzialismo.